L'integrazione è ancora più indispensabile quando non ci troviamo più nel corpo, cioè quando siamo, per così dire, morti, perché questi frammenti non hanno più il rifugio del corpo in cui ripararsi e se non sono integrati ci procurano un bel po' di guai. Ecco, probabilmente, da dove vengono tutte quelle storie a proposito dell'inferno, che comunque giova a ripeterlo, riguardano solo certi frammenti inferiori della nostra natura. I piani inferiori, infatti, soprattutto il vitale inferiore, che corrisponde alle zone dell'ombelico e del sesso, le più difficili ad integrarsi spontaneamente, sono popolati da forze fameliche. Un giovane discepolo inglese, andato se ne prematuramente e tornato a raccontare nel sonno a un amico come era andato il viaggio, diceva, appena fuori del vostro mondo non esiste più ordine pubblico. Una laconicità tutta britannica, per descrivere l'inferno, e aggiungeva, ma io avevo la luce di Mer e ho potuto attraversarlo. È forse bene precisare, dato che coi morti è un'esperienza assai frequente, che l'incontro si era svolto nelle regioni superiori del vitale, che corrispondono al centro del cuore, in quei bei giardini variopinti, che spesso si incontrano laggiù, e che costituiscono alcuni degli innumerevoli paradisi dell'altro mondo, anche se si tratta di paradisi piuttosto di bassa quota. Di solito, il disincarnato resta lì finché ne ha voglia, poi, quando ne ha abbastanza, se ne va assieme alla propria anima, nel luogo del vero riposo, nella luce originaria, ad aspettare il tempo del ritorno. Dire che qualcuno sprofonda in un inferno eterno è una crudele assordità. Quando mai l'anima, la luce, potrebbe restare prigioniera di vibrazioni così basse? Sarebbe come dire che l'infrarosso domina l'ultravioletto. Il simile si ricongiunge al suo simile, sempre ed ovunque. Qui, come altrove. Che altro mai ci potrebbe essere d'eterno, se non l'anima, se non la gioia? Se esistesse un inferno eterno, potrebbe essere soltanto il luogo di una gioia senza fine, dice Sri Aurobindo. Poiché Dio è gioia, Ananda, non esiste altra eternità che quella della sua beatitudine. Così l'essere, mano a mano che va integrandosi attorno allo psichico, passa da un sonno passivo ad un sonno attivo. Se possiamo ancora parlare di sonno, è da una morte travagliata ad un viaggio interessante o a un lavoro di qualche altro tipo. Ma anche in questo caso vi saranno innumerevoli stadi, a seconda della vastità della coscienza. Dalla piccola azione limitata a persone note, vive o morte, o a mondi conosciuti, fino all'azione universale di pochi grandi esseri, il cui psichico ha per così dire colonizzato vastissime distese di coscienza e che, con la loro luce silenziosa, proteggono il mondo. Per concludere queste brevi note, semplici indicazioni sul cammino del ricercatore, possiamo fare un accenno alle premonizioni. Forse non è stato sottolineato abbastanza come il semplice fatto che ci possano essere delle premonizioni indichi che gli eventi esistono già da qualche parte prima di succedere qui. Ovviamente non sono campati per aria. L'uomo che si dimostra tanto pedante per quel che concerne la realtà materiale accorda ai mondi meno materiali il beneficio più che gratuito dell'incoerenza o, quantomeno, di una vaghezza tipica solo della sua mente. L'esperienza ci insegna invece che, su questi piani, tutto è perfettamente razionale, se non ragionevole. A mano a mano che uno sale i gradini della coscienza, infatti, non solo si intensifica la luminosità, ma anche il tempo scorre più in fretta. occupa sempre più spazio, se si può dire così, inglobando avvenimenti sempre più lontani, sia nel passato che nel futuro, per sfociare infine in una luce immobile in cui tutto esiste già. Di conseguenza ci rendiamo conto che, a seconda del piano su cui si situa la nostra premonizione, il suo avverarsi sulla Terra può essere più o meno prossimo, più o meno lontano. Quando, per esempio, uno vede una cosa nel fisico sottile, che è il piano più vicino al nostro mondo, questa cosa si realizza quasi immediatamente, qualche ora dopo o al massimo l'indomani. Vediamo, ad esempio, un incidente, una visione precisa fin nei minimi dettagli ed ecco che il giorno dopo l'incidente succede realmente. Più in alto si sale nella scala della coscienza, più l'avverarsi della visione si allontana e più universale ne è la portata. Però i particolari si fanno meno precisi, come se l'avvenimento visto fosse sì ineluttabile, se la visione sgombra da ogni forma di egoismo, ma con un margine di incertezza quanto al suo modo di realizzarsi. margine che rappresenta in un certo senso le deformazioni o le peripezie che la verità subisce nel discendere da un piano all'altro per concretarsi sulla Terra. Da un'osservazione del genere possiamo trarre una quantità di conclusioni interessanti. Quella di maggiore evidenza è che più uno diventa cosciente sulla Terra, più sale nella scala della coscienza avvicinandosi all'origine. Più avvicina all'origine la Terra stessa, annullando i determinismi deformanti dei piani intermedi. Ciò può avere non solo notevoli conseguenze individuali sul dominio e la trasformazione della nostra vita, ma anche conseguenze generali sulla trasformazione del mondo. Molto si è discusso sul problema della libertà e del determinismo, ma è un problema mal posto. Non è questione di libero arbitrio o di determinismo, ma di libertà e di una quantità di determinismi. L'uomo è soggetto, dice Sri Aurobindo, ad una serie di determinismi sovrapposti, fisico, vitale, mentale e oltre ancora. Sicché il determinismo di ogni piano può modificare e annullare quello del piano immediatamente sottostante. Per esempio, nel microcosmo individuale, una buona salute fisica e una predisposizione alla longevità possono essere modificate dal determinismo vitale delle nostre passioni e sregolatezze, che può a sua volta essere modificato dal determinismo mentale della volontà e degli ideali, il quale può da parte sua essere modificato dalla legge più grande dello psichico e così via. La libertà consiste nella possibilità di passare ad un piano superiore. E così è per il destino della Terra. I microcosmi e il macrocosmo sono mossi dalle medesime forze. E se noi che siamo il punto di intersezione di tutti i determinismi nella materia sappiamo elevarci ad un piano di coscienza superiore, contribuiamo automaticamente con ciò a modificare tutti i determinismi inferiori e a far accedere la Terra ad una più grande libertà. fino al giorno in cui, come vedremo in seguito, aiutata dai pionieri dell'evoluzione, l'umanità potrà elevarsi ad un piano sopramentale che modificherà il presente destino del mondo così come la mente l'ha modificato nell'era terziaria e forse alla fine, se mai ci sarà una fine, la Terra arriverà al determinismo supremo che è suprema libertà e perfetta realizzazione. Ognuno di noi rappresenta, attraverso il travaglio della sua coscienza, un agente della resistenza contro le fatalità che pesano sul mondo, un fermento di libertà e di divinizazione della Terra. L'evoluzione della coscienza, infatti, ha un significato terrestre. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!